LUCHA Non ho superati tanti gli ostacoli. Da un tentato suicidio al dubbio della mia sessualità. Sono Luca. Un ragazzo come tanti. Poi ci sono loro, i miei amici. Quelli di una vita. Non li vedo da anni, purtroppo. Luca! E com'è? Non ho capito che di tutto. Cosa te? Beh, che mi dici di bello? Tra un mese mi sposo. Ah, hai deciso anche tu di ruvinarti. Ti sposo a Luca? Ah, sì, mi sposo, sì. Ecco, allora. Tra qualche settimana sono le nozze. Dal regista di Hell Inside, Chris Ancona. Ma Rocco, dove, dov'è? E Rocco? C'è Luca? Nella tragedia c'è la soluzione. Tadà! No, ragazzi. Scordatevelo. Questa volta non festeggio. No, 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 no. Dobbiamo assolutamente festeggiare. Ragazzi, no donne, no party. Con la speciale partecipazione di Anna Rita Del Piano. Ma sta aperto. Cara, se ti serve qualcosa, avvisami. I cinque amici più impediti di sempre. Cazzo, muoveteli! Scommetto che quelli sono quei due pirla di Rocco e Antonio? Cosa vinco se dicessi che è sbagliato? Vinci un paio di titoledi, eh? Rocco, che ci fai qui? Eh, Artanella, volevo parlarti riguardo... Rocco, non ci provare nemmeno. Non ho nessuna intenzione di cambiare idea. Ma non è stata... Giacomo, a che punto siamo con quei progetti? Ti va di sposarmi? Sì! Trazer Production presenta Debissero confusi e contenti Ragazzi, io mi dovevo sposare oggi!